Ciao, io sono il cane Yuko e oggi vi racconto di quella volta che ho fatto la prova di nascondino davanti a un sacco di gente La mia umana ha iniziato infatti a correre lontanissimo da me Ehi, ma dove è andata? Ero qua fino a un attimo fa Ho attivato così il mio potere dal supereroe e il mio super fiuto e ho iniziato a seguire il profumo della mia padroncina Beh sì, le umana esagerano sempre col profumo Eccola, guardate, l'ho trovata! Che cosa ho vinto? Ehi, aspetta, ma perché mi sta inseguendo? Mi vuole prendere aiuto! Così ho iniziato a fuggire mentre tutti ridevano di me Che figuraccia! Che cosa? La mia umana vuole darmi un biscottino? Ok, può catturarmi allora Così ci siamo spostati per andare finalmente a prendere il mio premio Ma aspettate, che cos'è questo? Non sembra un fatto del cibo Ok, forse ho capito, prima mi faranno la foto e poi mi daranno qualcosa Eccolo il mio premio, l'ho visto! Ehi, aspetta, ma dove è andato a finire? Beh, devo dire che dopo una giornata così ricca di impegni c'è proprio bisogno di un bel massaggio E in realtà non ho idea di cosa stia facendo questo umano Però tutto sommato sembra rilassante Ma perché qua tutti i cani sono sul passeggino oppure accomodamente in braccio le loro mani? Non è giusto? Ok padroncino, adesso va decisamente meglio Ok, ciao!